Grande fisicità per lui, sposta Palumbo, poi si prende un tiro complicato. Spinge ancora la transizione Ceron, arrivato da due partite, bello il nome che vigevano. Ancora Bertetti va al ferro, poi serve il taglio di Battistini. Non ha ancora costruito niente, l'attacco di Cento. Michel per la Durner! Inedito numero 5, va a prendere posizione. In basso, dice Mattia Palumbo, che prova ad andare al ferro e realizza. Prende la linea di fondo. Si butta al ferro Palumbo, subisce anche dei contatti. 44, mentre vola Musso e realizza. Per Moreno, va al ferro Jan e realizza. Che è un difensore molto tosto, però gli rende centimetri. Realizza. Samal è la difesa di Cento, si perde uno wide, Maghevino. Prova a buttarsi al ferro di mano sinistra. Cortissimo, Battistini a rimbalzo. Si prende uno step back Delfino e va al segno! A 4 decimi! La vittoria della Sella Cento, 74-72 qui alla Valtura Arena.